E' un ulteriore passo in avanti in questo processo che abbiamo avviato di messa in sicurezza contro le infiltrazioni e contro i rischi ovviamente che ci possano essere delle metastasi nell'ambito del territorio metropolitano. E' un innalzamento di quelle che sono le soie per la informazione antimafia, ci sono delle importanti anche previsioni in ordine ai cantieri, quindi alla messa in sicurezza dei cantieri, insomma credo che sia un'operazione significativa. Lei pensa che in questa situazione di emergenza sanitaria ci sia più pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata che abbiamo visto già è presente con tutti gli esercizi commerciali che magari hanno avuto problemi, non hanno ottenuto i prestiti dalle banche come era atteso? Sì, lo ha detto il Ministro dell'Interno ripetutamente, lo ha detto il Capo della Polizia, c'è un'oggettiva difficoltà. L'ho ripetuto io stesso nel corso di questi mesi anche nelle varie iniziative che abbiamo posto in essere come Prefettura di Firenze a tutela del tessuto produttivo di questo territorio metropolitano, particolarmente inciso dal fenomeno, dalla crisi Covid, perché ovviamente come tutte le città d'arte Firenze sta vivendo tuttora una crisi economica delicatissima. Questa la espone più di altre realtà e indubbiamente a un rischio di infiltrazione. Lo dobbiamo fare senza generare panico ma alzando il livello di attenzione sia noi come istituzioni ma anche da parte dei cittadini.